presidente ma che giornata stupenda giornata meravigliosa nei paradisi bianchi del cuneese siamo all'orise uno dei posti più suggestivi della provincia di cuneo forse uno dei più piccolini ma sicuramente uno dei più suggestivi da qua vediamo tutto l'arcarpino vediamo la pianura vediamo tutte le bellezze del cuneo c'è tantissima neve bellissima direi proprio meravigliosa una stagione eccezionale un più 40 per cento a metà febbraio avevamo già un più 40 per cento rispetto all'anno precedente un marzo con tantissima neve il meteo non ci ha aiutato tantissimo in marzo però abbiamo ancora direi un bel mese davanti per concludere questa stagione con un nuovo record per la stagione invernale paolo senza fiato addirittura sempre senza fiato ma con un divertimento infinito perché quello che vediamo il monte pigna di lurisia nel comune di roccaforte mondo via un'esperienza da vivere c'è proprio tutto qui qui c'è tutto e c'è anche un panorama che difficile trovare altrove all'interno però di un compressorio cuneese straordinario quest'anno abbiamo più 42 per cento di biglietti venduti che è il dato più alto percentuale italia la stagione non è finita andremo avanti fino al 15 di aprile quindi venite a godere di questi spettacoli non ve ne pentirete noi abbiamo questa bellissima stazione un bellissimo panorama una stazioncina piccola adatta alle famiglie vicina al vicina ai moregalesi vicino a roccaforte alcuneese una stazione tranquilla siamo contenti di questa giornata con ATL siamo stati fortunati per una bellissima giornata e speriamo che continui per tutta la stagione un tempo bello così che stagione è stata questa direi positiva abbiamo lavorato bene a parte queste ultime domeniche che ha fatto un po brutto tempo ma del resto abbiamo avuto molta presenza di famiglia e bambini e pubblico anche dal saluzzese torinese al bese molto soddisfatto la nostra idea di fare dei piatti gourmet veloci dove assaggiare i prodotti tipici locali delle di queste vallate questa possibilità di vedere tutto questo nostro territorio da questo punto altissimo che appunto è il luogo dove ci troviamo adesso all'urisia è stata veramente un colpo al cuore devo dirti la verità era molti anni che non passavo su queste piste intanto bellissime è un'emozione grandissima per chi ama il territorio come me vederlo tutto quanto in una botta sola con questa sua magnificenza questa maestosità mi ha veramente commosso per cui devo dire a tutti quanti anche d'estate una passeggiata una giornata una biciclettata in queste terre meravigliose dovete farla perché vale veramente la pena grandiosa